musica 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 ciao ragazzi e benvenuti al mio canale alcuni di voi ho chiesto come ho portato la mia camera a live nel precedente video cosa pensate G80? ok, facciamo prima di tutto parliamo dell' equipamento bisogna un gimbal con controllo remoto via smartphone virtualmente quasi tutti i gimbal recenti hanno questa funzione ogni manufattura lo chiede per esempio per DJI è un mobile forza per Moza è un controllo di movimento e così via in mio caso ho montato la mia camera su un Moza iCross con controllo di movimento a questo punto bisogna planare una piccola storia dove interagni con la tua camera ricordate di scrivere il script pensare della camera come una persona reale poi dovete impostare la scena per il miglior risultato possibile raccomando la scelta all'interno per avere controllo migliorare le luci e l'interno sicuro che lasciate qualche spazio tra te e la camera altrimenti la post-produzione sarà più complicata moving on to filming I prefer to shoot myself first being careful to leave the right process between my sentences then without moving the camera without moving anything on the set film the camera movements with motion control ok we've come to the last part the post-production launch Adobe Premiere and import the footage drag the main clip to the time and then drag the camera movement's clip to a second layer apply a mask to it to remove wanted parts move the clip to the right position and add the sound effects that's it with just a few simple steps you brought your camera to life I hope you enjoyed the tutorial please like comment and make sure to subscribe so you don't miss out to my future videos and and may the creativity be with you